Si aprirà il 26 novembre al Tribunale di Catania davanti al giudice della seconda sezione penale Giuseppina Montuori l'attività istruttoria del processo che vede imputato per omicidio colposo Salvatore Saraceno accusato di aver causato la morte del 23enne Gerrese Daniele Samperisi allievo della scuola di polizia penitenziaria deceduto a causa delle gravi ferite riportate nel corso dell'incidente stradale accaduto a San Pietro Clarenza l'uomo secondo l'accusa sarebbe uscito contromano da una piazzola investendo in pieno con la propria auto il giovane che viaggiava a bordo di una moto ieri mattina si sono concluse le questioni preliminari l'imputato difeso dal legale di fiducia Luca Andolina era assente a rappresentare la parte civile, i familiari del 23enne, il penalista Enzo Iofrida nella prossima udienza saranno sentiti testimoni dell'accusa tra cui gli agenti di polizia municipale Antonio Pappalardo e Vincenzo Caruso intervenuti sul luogo dell'incidente esonerato invece il medico legale Giuseppe Ragazzi la cui perizia è stata già inserita nel fascicolo del dibattimento